pensi che non ci devono essere solo dei tuoi? ma che sapi che c'è il giovento di uova? una cosa per un sacco mince si dice ma che ne sanno i 2.000? i 2.000? ma forse io non me la sanno che ho seguito il romanzo non voglio lo posso del 50 cassacone la monica romana siamo aperti romani è aperto sei? romani è aperto? si è aperto e cosa offre la casa? la mano non ci chiude più ormai ora non ci chiude più un mondo di facebook siamo sempre attivi ciao buongiorno siamo sempre attivi meno male che siamo attivi un mondo di facebook una lingua è una lingua ti ha chiamato un mondo di facebook un mondo di 50 un mondo di 56 un mondo di 32 Grazie a tutti. le canine, le canine aveva 10 anni che sono il capone aveva 20 anni che sei il capone ora riesci parlare con le canine canine ci mettiamo un pochino di lavoro Riccardo, ecco l'azione? con l'azione da Tiffany a Ballarono, vieni a parlare il capone l'azione da Tiffany con la Tiffany con la Tiffany con la Tiffany ci sono un po' bene ma perciò va bene grazie grazie questa è la protesia questa sera si inzuppa i biscotti mi raccomando non c'è bisogno di paracadute ma accendi ma accendi ma accendi ma accendi prego la quella posso fare una macicina me lo faccio me lo faccio non mi poète non mi muo over come io non lo faccio